Io credo che bisogna smettere di fare, come dire, propaganda miracolistica perché è un danno che si dà alle famiglie. La società oggi offre strumenti di altissimo livello, la tecnologia, come la protesi digitale. Un altro discorso però poi è il recupero. Io non parlo di riabilitazione perché è un controsenso questo termine. Un bambino, cosa si riabilita a un bambino se non ha nessun linguaggio? Io parlo di bambino sordi udenti in generale, quindi si educa al linguaggio. E non dimentichiamo che ci sono contesti dove il bambino sordo è figlio di genitori sordi o il bambino sordo è figlio di genitori udenti, quindi sono anche contesti diversi che devono far trarre diverse valutazioni. Il recupero dell'udito è importante ma con l'impianto cocleare non basta perché comunque la persona rimane sorda in ogni caso. Il recupero dell'udito c'è finché io non stacco l'impianto e torno sordo, quindi quando io mi tuffo stacco l'impianto, torno ad essere sordo. Quando faccio sport di un certo tipo di forza o quando devo vivere in determinati contesti, io torno ad essere sordo. Quindi diciamolo che l'impianto, la tecnologia è una tecnica innovativa ma che non va e non è la sola ad andare esclusivamente bene. Ci sono aspetti positivi e negativi e purtroppo quelli negativi non vengono mai detti alla famiglia. Un caso proprio dell'altro giorno a Napoli, un ragazzo di 20 anni con impianto cocleare, da due anni che aspetta che vengono sostituiti alcuni pezzi che sono rotti. Quindi capisce cosa vuol dire questo. Un impianto, se si rompono dei pezzi, detto proprio qualche pezzettino in termini molto comuni, bisogna rioperare, aprire, cambiare dei pezzi. Io guardo a questa prospettiva di evoluzione, di miglioramento delle opportunità di recupero uditivo e sono d'accordo, ma non li fa diventare udenti. Questo recupero dell'udito dà moltissimi benefici, è inevitabile, sono certi questi benefici, ma non sono miracoli come molti ci fanno credere. L'altra posizione critica dell'ENS è che l'impianto fatto sui neonati, questo per noi non vengono denunciate, le morti da infezione che molte persone in tutto il mondo hanno avuto. Allora io credo che ci debba essere un'onestà di dire anche queste cose e di non illudere le famiglie. Questa è la posizione dell'ENS, in questo senso vuole che le informazioni che vengono date alla famiglia permettono loro di scegliere liberamente. Io non so se sia rimasto tempo per una replica, mi fanno cenno dalla regia di no, per cui rimanete con noi, dopo la pubblicità sentiamo il professor Aslana, la dottoressa Croato e anche Andrea Nicolello. A dopo quindi. Eccoci ritrovati in studio, pendeva sul professor Aslana una risposta alla presidente nazionale dell'ENS, Ida Collo, sugli impianti cocleari e in modo particolare sulle modalità chirurgiche, di risolvere provocatoriamente, Ida Collo ha parlato in modo miracolistico, le sordità. Professore, una replica. Noi siamo abituati a ragionare in termini di solito scientifici o su dati, il problema degli impianti, e io concordo con la signora Collo che il problema vero è che manca una chiara informativa, ma manca sia da una parte, tra virgolette, sia dall'altra. Allora, esiste l'obbligo per qualsiasi Stato che utilizza gli impianti di avere un censimento delle casistiche o dei problemi che sono sorti dopo l'impianto. È semplice, è disponibile in internet, è disponibile per gli Stati Uniti, come forse per l'Italia non è disponibile, ma forse gli Stati Uniti possono rappresentare sufficientemente il problema delle rotture degli impianti. La rottura della parte interna di un impianto che necessita di un intervento chirurgico si situa ancora oggi attorno dallo 0,5% all'1% degli impianti, ed è una rottura che per gli impianti diventa un problema, però se noi parliamo dei pacemaker, per esempio, che si rompono verosimilmente di più degli impianti, non è un problema, qualsiasi problema, qualsiasi apparecchiatura di ordine tecnologico ha questi difetti. Per quel che riguarda invece le notizie che i medici darebbero in maniera inappropriata, concordo con lei, ci sono anche in questo caso colleghi miei che non sono molto corretti nell'informativa che danno i medici, però mi deve permettere di dire che se viene operato un bambino e se questo bambino viene operato in tempo utile, io posso tranquillamente dire alla famiglia che questo bambino recupera l'udito e che quindi recuperando l'udito avrà sicuramente, per quel che riguarda la componente periferica, quindi l'orecchio, tutte le possibilità di acquisire un linguaggio normale e non c'è senso in questo. E lo stesso, se un impianto va cavato, non è che lei dice a uno che porta gli occhiali che non vede perché quando toglie gli occhiali non vede, è evidente che se si cava la protesi sull'impianto, nel momento in cui si lo cava non si sente. Posso raccontare... Grazie professore, Andrea Nicolello, chiedo a lui di spiegare, di raccontare a tutti noi la sua esperienza. Beh no, io non volevo raccontare, io sono genitore di una bambina nata sorda, sorda profonda, con la quale io adesso riesco a parlare al telefono a sette anni e ha un impianto cocleare, ma non è questo. Tra le parole del professore Aslan, io sentivo un'emozione. Pensare di ridare l'udito, ma non in modo miracolistico, e pensate, una ragazza di 15 anni che per la prima volta scopre che il mare fa un rumore, e lo paragona a qualcosa che va e poi torna, dopo che ha avuto l'impianto cocleare. O che dice, ma spostando le tende io sento un rumore. Io credo che queste siano cose che emozionano, che emozionano prima di tutto le persone che hanno avuto questa fortuna, e che emozionano naturalmente i genitori che hanno fatto una scelta. Perché, ricordiamocelo, fare i genitori significa fare delle scelte. Noi siamo chiamati, piaccia o non piaccia, ed è una cosa in alcuni casi anche drammatica, a decidere per dei bambini. Per dei bambini che non possono in quel momento decidere, ma noi siamo tenuti a farlo. C'è il consenso informato. Vale per l'impianto cocleare, vale per molti altri tipi di operazioni importanti, anzi credo che valga ormai nella medicina europea, nella medicina mondiale, per tutte le operazioni importanti. Col consenso informato ai genitori si chiede di affrontare un'operazione importante e gli si dice quali sono i rischi. Si parla della casistica. Rispetto all'impianto cocleare, io ho presente, a parte il mio caso personale, di famiglie che hanno dovuto maturare questa scelta in sei, otto, dieci mesi, un anno. E io dico sempre, nascere sordi in Veneto, nascere sordi a Padova, a Treviso, essere un po' più fortunati che nascerlo in altre città d'Italia. E questo è un problema, perché noi qui abbiamo i centri migliori all'avanguardia, ce ne sono anche in altre regioni d'Italia, ma nascere in altre città si è meno fortunati, perché bisogna poi spostarsi, spostarsi per fare la logopedia, per fare la riabilitazione. Allora, io lancio un'altra sfida all'Ens, per una battaglia comune fiadda-Ens. Professore Aslan e la dottoressa Croato ce l'hanno detto con estrema chiarezza, conta moltissimo sapere la diagnosi quanto più precoce possibile. Allora, perché non fare una battaglia comune sull'istituzione dello screening neonatale audiologico universale? Da fare entro i primi tre giorni di nascita, da fare in tutti i punti nascita d'Italia, da ripetere poi con le metodiche previste dalla legislazione italiana, che rispetto ai falsi negativi o ai falsi positivi richiedono poi ulteriori mesi di controlli. Ma questo è una battaglia di civiltà che dà poi alle famiglie, restituisce alla famiglia sostenuta dagli psicologi, dai medici, dagli audiologi, dai fognatri, la decisione da poi intraprendere sul destino di questo bambino. Nicolello, la provoco, come poi provocherò un'altra coppia di genitori, perché, faccio questa domanda, perché non ha scelto la LIS per sua figlia. Se non l'ha scelta, io non lo so. No, io, quando... Mia figlia è stata diagnosticata molto precocemente... a...